Buongiorno, e benvenuto alla nuova edizione del Gran Galà di Filistagione. Ci fa molto piacere che tu sia qua con noi, con chi abbiamo il piacere di parlare e da dove vieni? Mario Caspar, come vengo dal paese, presento in questa intervista il Club Treviso Autosolico, che è un affezionato club di questa manifestazione, quindi ho raggruppato tutti gli elfisti del nostro club e oggi siamo qua. Benvenuto Mario, è la tua prima volta a Gran Galà e cosa ti ha spinto a partecipare? Non è la prima volta che veniamo a Gran Galà, ormai sono varie edizioni che facciamo e ci spinge innanzitutto la passione per la compagnia di Stine Alfa Romeo, che sono delle persone favolose, fantastiche, di compagnia, ci si diverte. E poi la passione per l'Alfa Romeo che è grande. Almeno per me. Ma posso dire che anche i nostri soci alfisti sono molto forti in questo, quindi ci tengono a questa manifestazione. Definisci che cosa rappresenta per te l'Alfa Romeo nella vita di tutti i giorni. L'Alfa Romeo rappresenta per me nella vita di tutti i giorni intanto l'auto di uso quotidiano, perché vado via prevalentemente in Alfa Romeo. L'Alfa Romeo rappresenta più che nella vita di tutti i giorni, nello stile di vita mio e nel mio pensiero costante, la storia d'Italia in un certo senso. Il 24 giugno 1910 in poi, diciamo che l'Alfa Romeo ha rappresentato per l'Italia veicoli che hanno fatto la storia, pensiamo all'esercito, alle forze dell'ordine e perché no anche alla malavita. Fa parte un po' della vita di tutti i giorni con grande onore. Cosa ne pensi del club stile Alfa Romeo? Io Stile Alfa Romeo lo conosco da qualche anno, non tantissimi, ma lo conosco da diversi anni. L'ho conosciuto alla prima edizione a cui ho partecipato io del Gran Galà, se mi ricordo doveva essere il 2014, credo. avevo da poco comprato un'Alfa 75 storica quindi e ho detto voglio poi andare a fare una bella manifestazione d'Alfa Romeo con questa 75 e vedi in internet che c'era questo Gran Galà qui a Palmano e ho detto ma andiamo a vedere che cos'è. E lì ho conosciuto il Gran Galà, ho conosciuto in primis il suo presidente qui, Rudy, è una persona che mi ha subito accolto diciamo facendo parte dell'interno della compagnia qui e ne è nata un'amicizia diciamo e quindi per me Stile Alfa Romeo rappresenta oltre che l'Alfa Romeo in sé qui da queste parti rappresenta anche un forte legame di amicizia, di affetto, di rispetto, di stima. Grazie Mario, intanto ti auguro una buona giornata, rimani qua con noi per appunto la sfilata, ci ritroviamo poi a pranzo in Vina Maniglia. Grazie e sarà un bello piacere.